Ilaria Salis, eurodeputata di AWS e ora membro del gruppo The Left, ha dichiarato alla stampa durante i suoi primi giorni a Bruxelles. Attualmente godo dell'immunità, ma l'Ungheria potrebbe decidere di revocarla, lasciando al Parlamento europeo la decisione finale. Ha proseguito esprimendo il suo auspicio. Mi aspetto che il Parlamento tuteli i diritti fondamentali, rispetti il principio di proporzionalità e la presunzione di innocenza e sostenga lo Stato di diritto. Sì, è assolutamente vero. La vicenda giudiziare non si è ancora conclusa, perché in questo momento godo dell'immunità, ma l'Ungheria può decidere di chiedere una revocata dell'immunità parlamentare. In questo caso la decisione spetterà al Parlamento europeo, che deciderà tramite votazione. Io sinceramente spero e mi aspetto che comunque l'Europa, il Parlamento europeo, si schieri a difesa dei diritti fondamentali, si schieri a difesa della presunzione di innocenza e del principio di proporzionalità e del rispetto dello Stato di diritto. Insomma, questo è il mio auspicio.